Contagiati di terra, di mare e dell'aria, camici bianchi della sanificazione e dei tamponi, cittadini del mondo e consumatori d'Europa, ascoltate! L'infido virus trama le vostre spalle, ma il governo resta vigile e allerta, sempre teso alla vostra incolumità. Grazie ai migliori luminari in campo scientifico, il presidentissimo Giuseppe Conte ha diramato alla nazione le nuove disposizioni. Il virus agisce col favore delle tenebre e dunque posto il coprifuoco al calar del sole. Il virus è bramoso di vivande ed uso al bere smodato. Sono pertanto chiusi i locali dalle ore 18.00. Poiché il virus non intacca l'organismo migrante, le preziose risorse avranno libero accesso ai padri litorali. Sono invece proibiti tassativamente gli assembramenti sediziosi e le palestre della cultura fascista. Con l'ausilio dei propri delatori e la persuasione dei fucili, la popolazione verrà tenuta lontana dalla più fatale fonte di infezione, il lavoro! Il sistema immunitario dei vetusti nuclei familiari verrà rinforzato dal minor sostentamento. Guarita dai bacilli delle piccole imprese, l'industria italica svilupperà una naturale scorza competitiva. Nel momento del bisogno l'Europa è al nostro fianco. L'alleato tedesco ci solleva dal gravoso controllo del porto di Trieste, mentre Parigi si prodiga nel proteggere per noi il Monte Bianco. Un'altra umiliazione per la marmaglia sovranista. Con fermezza autocertificata, il governo stende la sua ala protettrice su tutta l'Italia. Il positivo verrà stanato ovunque si nasconda. L'asintomatico esagerà presto l'educazione della quarantena. La mollezza del dubbio lascerà il posto all'acciaio del credo. Popolo italiano, corri ai balconi e dimostra la tua responsabilità, la tua disciplina, la tua applicazione. Spezzeremo le regne al virus!